Bene, ciao a tutti, con questo video mi presento, mi chiamo Luca Maria Otello Ghezzi, chi mi conosce semplicemente per Luca Ghezzi, sono un dottore commercialista, ho lo studio a Giussano, il mio team è composto di 6 minotti in totale, ho una seconda laurea in scienza dell'informazione che mi ha molto aiutato nell'attività di dottore commercialista. Siccome ho deciso di fare un canale YouTube, è bene fare un video di presentazione per spiegare chi sono e le mie esperienze. Io ho lavorato circa 3 anni come analista programmatore, facevo software, negli anni 1988-1989, quindi tanto tempo fa. Successivamente mi sono abilitato dottore commercialista nel 1999, e di conseguenza poi ho proseguito l'attività paterna di mio padre, ragioniere commercialista, e quindi ormai sono più di 20 anni che faccio il dottore commercialista. Bene, cerchiamo di non essere troppo noiosi e di dire cose un po' creative e divertenti, se no che noia. Allora, voi dite qual è l'aspetto più divertente di un dottore commercialista, visto che tratto una materia così pesante e barbosa? Beh, insomma, la parte più divertente e più creativa è un po' quella di cercare di trovare una sintonia con il proprio cliente, il partner, insomma le persone coinvolte in un business, nel trovare degli aspetti, come dire, in un modo un po' innovativo. Questo mi ha sempre contraddistinto, infatti fin da quando ho iniziato l'attività di dottore commercialista, mi sono specializzato nel creare anche dei software specifici, in modo da aiutarmi nella mia professione. Oggi posso dire che dopo tanto tempo effettivamente ho acquisito una capacità, una praticità, un'esperienza, una competenza molto ampia. Io spazio dalla parte fiscale, informatica, civilistica, societaria, controllo di gestione, quindi riesco a capire molto velocemente le dinamiche finanziarie di un'azienda e soprattutto una visione talmente ampia che riesco ad aiutare gli imprenditori nella loro difficilissima missione di riuscire a tenere in piedi l'azienda, pagare i fornitori, pagare le tasse, incassare dai clienti, insomma sopravvivere ai mille vincoli che capitano nella gestione dell'impresa. Molti di voi mi conoscono bene e hanno apprezzato nel tempo i miei tool, i miei software di business intelligence. Sono parolone, sembrano, in realtà si traducono nella quotidianità con interventi che tendono a semplificare, a far capire, a far comprendere e a dare delle letture un po' più tecniche alcune volte, ma che una volta spiegate con parole molto semplici riescono a far capire ai imprenditori delle cose che non aveva mai visto prima. Quindi, dall'ottimizzare la tassazione, spiegando molto bene le regole civilistiche, societarie, fiscali, dal capire i margini che uno ha nella sua attività, capire quali preste dovrebbe applicare, capire gli equilibri patrimoniali e finanziari. Ecco, i grafici, i report, i numeri organizzati in un certo modo sono molto spesso di un grande aiuto. Di questo io ho specializzato la mia professione dottore commercialista appunto sviluppando queste capabilities, queste abilità, chiamatele come volete, anche questi mezzi informatici che fanno la loro parte e, devo dire, riscontrano un notevole successo. Recentemente sto anche ampliando l'attività, supportando altri dottori commercialisti nel supportare i loro clienti nel controllo di gestione. Questo è un po' una sintesi della mia presentazione, quindi mi auguro che questo vi chiarisca un po' la mia figura, le mie competenze e quindi quando vedrete i successivi video capirete meglio i contenuti e le origini da cui parto. Vi ringrazio e buon lavoro.